Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi è mercoledì e quindi torniamo a parlare di campioni. Il campione di oggi è Sventura, un epico che la maggior parte di voi sicuramente ha perché esce veramente molto spesso. Poi è un campione che ha fatto parte di molti per dieci perché è davvero molto utile. Comunque direi che stiamo prima a vedere che cosa fa, quindi ci fiondiamo nell'indice. Cavalieri Redivivi, quindi epico della forza di tipo assistenza. Il campione è dotato di tre skill, assolutamente, due attive e una passiva, che si chiamano skill attiva inutile numero 1, skill attiva inutile numero 2 e poi la sua passiva che è l'unica vera skill importante. Rinforzo, infatti, guarisce tutti gli alleati per il 7.5% dei loro HP e rimuove da essi un debuff a caso all'inizio del turno di questo campione. E voi direte, ok, tutto qui? Guardate che fa veramente, veramente tanto, soprattutto se viene fatta abbastanza veloce, soprattutto se viene sfruttata con un set particolare, ma andiamo per gradi poi perché la build la vedremo. Buttiamo un attimo un occhio alle sue statistiche, parte da HP di base notevoli, comunque sono belli alti. La difesa non è male, la velocità non è male e tutto il resto è assolutamente irrilevante. L'attacco è basso, è un campione che con la sua skill primaria può fare anche un po' di dannino, onestamente però vi consiglio di farla un po' più tencosa, ma vabbè, come ho detto prima, vediamo tutte queste cose nella build. Tutto ciò che c'è da sapere su di lei è qui, perché è un campione veramente molto molto semplice, molto vecchia scuola, penso che sia stato uno dei primissimi epici rilasciati e quindi andiamo a vedere la build. Ed eccola qui, allora dico subito che dal punto di vista del potere totale è una delle build più deprimenti che io abbia mai realizzato al netto delle statistiche raggiunte, ma andiamo con ordine. Quindi 70.000 HP e 3.000 di difesa, due valori più che sufficienti per farla stare in piedi da sola. Quindi non vado ad influenzare la cura della passiva, perché la cura della passiva cura in base agli HP del campione che sto curando, non in base a quelli di sventura. E di conseguenza dagli tantissimi HP lascia il tempo che trova. L'unico contesto in cui potrebbe avere senso averne tanti è un bellissimo set scudo, per esempio. Non è il mio caso, però, perché la mia intenzione era fare proprio un campione in grado di stare in piedi senza dover appesantire gli altri. Lei deve pulire tutti quanti, deve curare tutti quanti e farlo in un bel angolino da sola senza che nessuno le dia fastidio. Lasciatemelo dire, è la filippina di turno, insomma, quella che fa le pulizie. È molto importante che sia veloce, sopra 200 va bene, però qualsiasi valore, insomma, sarà ottimo, purché sia veloce, veloce, veloce. Tasso e danno irrilevanti, a meno che non abbiate spazio per darglieli, insomma. Quindi avete già raggiunto valori di difesa e valori di vita e valori di velocità che ritenete sufficienti. C'è ancora spazio per cercare nei vostri oggetti tasso o danno, insomma, che ne so, dagli un guantone tasso o fare cose così. Benissimo, allora dategli neanche un po', perché la sua skill primaria mi sembra che abbia un 4 di moltiplicatore che è decente. Lei parte da un attacco di base basso, quindi non aspettatevi i numeroni, ma comunque qualcosa di buono si riesce a fare. Non ha bisogno di precisione per rimuovere i debuff, non serve per farlo. E non è che abbia poi bisogno di tutta questa resistenza, perché se si toglie i debuff da sola, capite che è abbastanza rilevante. Non possono essere imposti i tempi di ricarica ad una destrezza passiva, quindi l'avrà sempre a disposizione. E se qualcuno la riempi di debuff, pazienza, perché il suo lavoro per il team lo farà sempre, indipendentemente da qualsiasi debuff le mettiate addosso. Perché nel momento in cui prende turno, anche se è stordita, anche se è congelata, comunque la sua passiva entra in funzione. Quindi non preoccupatevi. È il campione che ha meno bisogno di resistenza di tutto il gioco. Per darle un'ulteriore spinta in più, le ho dato un set sostenitore. Quindi 18% di probabilità di prendere un turno extra. Un turno extra significa più cure e più debuff rimossi. E questa cosa è super potente, non avete idea di quanto potente è. Quindi se avete qualche pezzo buono per raggiungere un valore di velocità decente, come questo, come sopra i 200, considerate l'idea di darle un set implacabile, perché davvero si sente tantissimo la differenza. In ogni caso, stivari velocità inevitabile. Poi gli ho dato una corazza HP e anche dei guanti HP. Poi vedrete che ho fatto invece un discorso inverso per i pezzi sotto, insomma per la gioielleria. E poi in tutti i pezzi ho cercato sempre velocità, un po' di HP. Anche qui vedete un po' di velocità HP e difesa, velocità HP e poi c'era un po' di precisione inutile, ma vabbè comunque il pezzo andava bene. Mentre nei pezzi sotto ho cercato sempre difesa, che avesse anche difesa, in questo caso anche un po' di HP rollato, difesa anche qui e difesa anche qui con un po' di HP e un po' di velocità. Sarebbe stato carino avere qualcosa in più, ma vabbè. Quindi tutta la difesa che mi mancava dai pezzi sopra l'ho integrata con la gioielleria. Avete visto che insomma siamo arrivati ad un valore più che dignitoso, che le permette davvero di stare in piedi da sola, insomma di non rischiare di morire. Parlando poi delle maestrie, allora potete permettervi di fare anche i taccagni su questo campione e non darle maestrie, quindi risparmiare proprio tutto il pacchetto perché funziona lo stesso e funziona abbastanza bene. Se volete fare le cose bene bene bene, allora potete seguire magari un percorso simile a quello che vi ho fatto io. Andiamo a vedere quindi difesa, benissimo. 10% di danno in meno se i campioni si trovano questi debuff di controllo, che sappiamo non essere pericolosi per lei perché comunque la sua passiva funzionerà sempre. Però questo non significa che lei non possa essere colpita da questi debuff, semplicemente qualcuno gli rimette sopra, che sia utile o no poi è irrilevante. Però sarà una cosa buona in quel caso perché si prenderà 10% di danno in meno. Poi con questa maestria come al solido 5% di danno in meno dagli attacchi territoriali, è particolarmente buono nella mia visto che difficilmente verrà presa di mira dagli attacchi a target singolo e quindi prenderà quasi sempre attacchi territoriali. Questo può tornare utile se per caso mi trovo contro un avversario che si cura, grazie perché mi curo anche io. Danni in meno da target particolari contro i boss in particolare, molto molto valida. Durante il corso della partita arriverò fino a prendermi un 6% in meno da quel particolare boss utile. E infine questa, mi prendo un po' di contatore extra nel momento in cui gli alleati vengono colpiti da un colpo decisivo. Può succedere, è buono perché magari mi prendo quel contatore che mi serve per prendere turno e curare subito, togliere subito quel debuff fastidioso, insomma fare cose buone. E poi ramo sinistro naturalmente del percorso assistenza, quindi HP in più, un pochettino di margine di più di cura. Tenete conto che questo è un 5% del suo 7.5%, quindi è niente, però nel complesso aiuta. Va da sé che sono poi utili tutte le cure che accadono in determinate circostanze, quindi quando l'alleato ha il 40% in meno di HP per esempio, oppure quando si trova sotto debuff fastidiosi. Gli ho dato tradizione d'acciaio semplicemente perché ho impiegato anche un set velocità e quindi era qualcosina di velocità in più, non tanto, ma comunque tutto fa. E infine ho chiuso con intervento tempestivo, che è la maestria con cui di solito si chiude uno speeder da arena, insomma come per esempio giudicatore, per citarne una. Ma in questo caso può essere utile perché come ho detto prima, mi trovo un alleato che sta per morire, lei si può un po' di contatore e magari comincia a curarlo di quel tanto che serve per restare in vita, quindi può essere utile. Capite che sono tutte maestrie utili, nessuna di queste è fondamentale per fare bene e proprio per questo vi dicevo, valutate voi. Comunque in ogni caso questo è un bello schema che vi consiglio. Tommy sì, Tommy no, l'abbiamo già detto e stradetto. Tommy no, infatti la mia li ha tutti quanti. Portate pazienza, ma non sono sempre stato il buon brano un po' furioso che conoscete e qualche fesseria l'ho fatta anche io nel corso del tempo e di sicuro ne farò ancora un sacco, quindi non preoccupatevi. Quindi Tommy assolutamente no. Dove si può utilizzare questa fanciulla? Ovunque, davvero ovunque, o meglio, in qualsiasi contesto in cui avete paura dei debuff avversari contro boss che vavvelenano, che riempiono di debuff fastidiosi. Tutti i nuovi boss della Torre Sventura potete cacciare tranquillamente dentro lei senza nessun problema, tranne forse lo scarabeo, ma vabbè non è più un problema nostro visto che non fa più parte della rotazione nuova, insomma. Lo scarabeo in tutti gli altri la buttate dentro e vedrete la differenza. Ed è proprio questo che vedremo oggi. Quindi invece di portarvela dai soliti draghi, dai soliti golem glaciali e così via la sbattiamo in Torre Sventura e vediamo che cosa succede. Ed eccoci dal grifone tosto questa volta. Quindi partiamo, come abbiamo detto, primo turno si evita di mettere debuff di qualsiasi genere. Vedete che già la nostra Lidia si è presa uno stradimento perché ha ridotto il contatore di turno del boss. Sarà un problema? Lo vediamo subito. No, perché prende Torre Sventura e pulisce tutto. E questa cosa accadrà sempre. Quindi possiamo tranquillamente, entro certi limiti, controllare un po' il contatore del boss perché tanto se veniamo storditi, chi se ne importa? Sventura, cura tutto lei. Cura e anche di conseguenza toglie il debuff di controllo fastidioso. Lasciamo passare tranquillamente il primo turno senza troppi problemi, senza caricarci di buff in modo che il boss non possa fare danno. E adesso possiamo cominciare a tirare dentro i buff. Non ancora i debuff, quindi attenzione, andiamo avanti tranquillamente, senza troppi problemi. E giù, ancora cura, ancora danno. Poco per quanto possa essere, insomma. Con Brago possiamo metterci l'aumenta difesa a tutti quanti perché adesso il boss non può più rimuovere buff e fare più danno. Lo farà più avanti, insomma. E adesso possiamo cominciare invece a riempirlo di debuff. Ora, avete visto tutti quanti riduci velocità? Non esistono più. Sventura, pulito tutto. Questa cosa succederà sempre, ad ogni turno. Allora, adesso... Giù l'attacco se ci riusciamo. Perfetto. Poi un po' di danno extra. Poi andiamo a ridurre la difesa, a mettere l'indebolimento. Adesso ci comincia a fare un po' di danno serio, insomma. Ecco. Cosa buona e giusta. Ora, la cosa importante è non mettere più buff. Quindi dovremmo ricordarci di scaricare tutto quello che abbiamo perché il prossimo turno è il turno in cui il boss invece comincia a sfruttare i buff che abbiamo ecco per farci più male. Quindi ricordiamoci che questo è il turno in cui dobbiamo cominciare a scaricare tutti quanti i campioni che è esattamente quello che stiamo facendo. Di fatto. E quindi, ecco, è rimasto soltanto un aumento alla velocità. pazienza. Ma vedete che è tutto un danno che può gestire tranquillamente la nostra beniamata amica sventura. E quindi andiamo avanti così. È passato il turno in cui il boss rimuoveva tutti i buff quindi adesso possiamo ricominciare a pomparci di buff. E invece dobbiamo non fare niente per i debuff del boss. Dobbiamo solo aspettare che si scarichino. Purtroppo ho fatto in tempo a spalmarli ma ancora una volta non è un problema perché vabbè è rimasta sulla riduzione della velocità però già quell'altro debuff che era più fastidioso è stato rimosso l'indebolimento. E vedete che adesso ho preso un altro turno perfetto ho rimosso anche l'altro. Quindi ecco qui l'importanza di avere... E' un altro turno ancora quindi ecco vedete che insomma l'importanza del set implacabile viene fuori proprio per questo. E adesso si va avanti. Siamo nel turno in cui possiamo ricominciare a mettere debuff sul boss e quindi adesso si torna alle nostre consuete mazzate normali. Quindi adesso credo che una pettinata potrebbe anche darcela perché siamo un po' pieni di debuff. Vabbè pazienza insomma se ce la facciamo a toglierceli bene altrimenti curano tutto i nostri campioni eh. Ce la si fa senza troppi problemi. Allora tac. Eh sì ancora va bene. Un po' di danno ma neanche tanto dai. Meno di quello che pensavo. E adesso ormai il boss è morto. È morto a tutti gli effetti senza troppi problemi. Vedete questa è la torre difficile. Il livello... Il primo piano insomma è il piano 10. Niente di particolare. Però comunque problemi zero. Zero. E Sventura è servita. Perché ha tolto tutti i vari debuff fastidiosi. Ha tolto lo stordimento quando Sheila si era preso. Ora mi pare che l'abbia preso una volta soltanto. Perché solo una volta è entrata in funzione la sua skill primaria. Però poteva anche succedere sempre. Sarebbe stato un problema? No. Perché tanto Sventura è più veloce di Sheila. E quindi la cura prima. La cura assolutamente prima che Sheila possa prendere turno. Quindi già contro questo boss avete capito che è tanta tanta roba. Anche contro il Drago Eterno. Ottima. Proprio perché va a togliermi l'unico debuff fastidioso. Se io sono stato bravo e ho imposto i tempi di ricarica al boss. E cioè blocca destrezza e tempi di ricarica. Nessun problema. Perché tira via tutto. Ed eccoci invece contro il Ragno Abissale. Boss fastidiosissimo. Qui è nella versione facile. Perdonatemi ma appunto devo ancora salire nella torre tosta. Con calma col tempo ci arriverò anche io. Quindi allora una pletora di veleni su di noi. E in questo caso Sventura aiuta ma fino a un certo punto. Perché ci portiamo dietro Sventura? Perché comunque qualche debuff entra sempre anche durante la partita. Quindi il grosso volume di veleni ce lo curiamo. Semplicemente con un campione come Acorn o come Mago. Che spazza tutto e di conseguenza anche cura. Vedete? Puff via tutto quanto. E cura gratis. Perfetto. E questo lo utilizzeremo quando il boss attacca insieme a tutti i regnetti. Quindi ci riempie di veleni. Per tutte le altre circostanze nessun problema. Ci pensa la nostra buona amica Sventura. Adesso non ci resta altro che picchiare il boss a mano. E prima o poi cadrà. Possiamo anche fare gli spacconi. E portarci dietro qualcuno che metta riduci difesa. O indebolimento. O anche soltanto riduci difesa. Purché sia target singolo. La cosa importante è non toccare i regnetti. I regnetti non sono pericolosi. Se vi portate dietro campioni come Sventura. Perché tutti i veleni che possono mettere saltuariamente. Semplicemente verranno ripuliti da lei. E se poi le cose dovessero andare male. Insomma comunque dovessero cominciare ad accumularsi più veleni del previsto. Come in questo caso. Ci siamo portati due validissimi campioni. Come Mago del Mausoleo. Ma anche lo stesso Akorn. Che hanno la possibilità di rimuovere tutto quanto. E poi curare il team. Quindi è solo una questione di tempo. È solo una questione di tempo. Qua ci sono due campioni abili a curare ogni volta che prendono turno. E sono Scilla e Sventura. Sventura va a toglierci anche tutti quei fastidiosi veleni. O sensibilità benefica. Insomma cose che il boss mette così per divertimento. E sono assolutamente ininfluenti. Perché nel momento in cui Sventura prende turno. Rimuove il veleno. E se il nostro avversario aveva già subito quel danno. Lo recupererà. Perché il veleno causa un danno per il 5% degli HP massimi del nostro campione. Mentre Sventura cura per il 7.5. Quindi la sua cura sarà sempre maggiore rispetto al danno del veleno. È chiaro che poi quando ci sono più veleni. Allora andremo a sfruttare il potenziale di skill come Akorn e come Mago. Che è il motivo per cui ce li portiamo dietro. Ma per il normale prosieguo della partita. Ci pensa Sventura. Soprattutto se si decide a prendere qualche turno extra. Perché l'ultimo è stato un bel po' di tempo fa. Comunque vabbè. Vedete che grazie a lei non abbiamo bisogno di abusare delle cure. Insomma di Akorn. Vedete in questo momento potrei anche non utilizzarla. Ed è quello che farò. Perché tanto poi Sventura prenderà turni. E se le cose dovessero andare male. Sono sempre pronto per sfruttare il mega potenziale di Mago del Mausoleo e di Akorn. Quindi è solo ed esclusivamente una questione di tempo. Ora il boss può solo morire. Nel frattempo lei prende turni. Ne prende ancora. Pulisce. Pulisce. Fa. Cura. E tutto il team è in piedi. Vedete che nessuno sta rischiando. Sono tutti in piedi e stanno alla grande. E ormai il boss è andato. È torre facile. Per carità. Ma non è il livello più basso della torre facile. Siamo già verso l'alto. Insomma mi pare che sia il novantesimo piano. Settantesimo piano. Non mi ricordo. Non il novantesimo. Novantesimo. E vedete che sta facendo tutto lei. Sta facendo tutto lei. Avrei la possibilità di curare tutti. Sia con Mago che con Akorn. Ma non lo sto facendo. Perché fino adesso ha sempre gestito tutto bene Sventura. Vabbè adesso possiamo fare un po' di cura così. Però è più per curare in realtà. Perché in realtà i veleni non è che fossero poi così tanti e o pericolosi. Quindi va bene insomma. Va bene va bene. Dai lo sconfiggiamo. E poi una volta che ce ne siamo liberati. Non dovremmo più avere grossi problemi. Intanto i regnetti crepano anche di mazzate auto inflitte. Visto che mettono la protezione alleato sul regnone. Peggio per loro. Perché moriranno anche loro malamente. Ecco quando poi il boss si trova completamente senza regnetti. È il momento in cui diventa pericoloso. Ed è il momento in cui salta fuori il bene di campioni come Akorn e così via. Ma l'abbiamo già detto e stradetto. E comunque vedete che posso anche curarmi adesso. Ma era così rilevante e ormai il boss è andato. Quindi. Sei minuti. È tanto. Per carità è vero. Però questa cosa potenzialmente funziona anche in automatico. Che io sappia i campioni sono ancora stati scriptati. Questa run è stata ancora scriptata per far sì che i regnetti non vengano toccati. E questo è un bene. Perché se non vengono toccati non cureranno il regnone. E di conseguenza può solo morire. Nel momento in cui ho un team che ha una certa sinergia. Allora va bene. Insomma si riesce a fare sventura. Soprattutto fa un lavoro assurdo. E lo avete visto con i vostri occhi. Quindi per sicurezza mi sono portato dietro Mago e Akorn. Per avere due campioni in grado di pulire tutti i veleni. Ed eventualmente anche curare. Ma avrei potuto tranquillamente togliere Mago. Per mettere che ne so. Un riduce difesa e un bollimento a target singolo. E quindi velocizzare ancora di più la run. Proprio perché sventura ha fatto il lavoro di Mago. Insomma ha fatto il lavoro di un cleanser a tutti gli effetti. Un cleanser che pulisce con una skill. Che pulisce tutto con una skill. Questi sono due contesti in cui la vedo super bene. Ma mi piacerebbe farvi vedere adesso un altro contesto. Per giocatori un po' più in erba. Ok? Quindi Minotauro. Minotauro. Facciamo un esempio del Minotauro. Vogliamo fare le pergamene ai nostri campioni. E quindi adesso vado a toglierci Norog. Che è già pergamenato. E ci metto il buon Arcimago. Che invece gliele devo fare. Gliele sto facendo. Con un po' di calma arriverà anche lui. Promesso, promesso. Per quanto io lo stia già utilizzando con grandissima soddisfazione. Allora, perché Svendura potrebbe essere utile contro il Minotauro? Che è un boss schifoso che si batte in 5 minuti. Perché non è che si batte in 5 minuti sempre. All'inizio potrebbe essere difficile arrivare alla fase 15 per farmarla. E a noi ci interessa che il boss caschi. Sempre che non abbia la possibilità di vincere neanche una volta. Perché è energia sprecata. E quindi cosa si fa? Perché in realtà il Minotauro non picchia a mano in maniera così potente. L'unica cosa che fa è mettere Malocchio. Nel momento in cui mette Malocchio e poi colpisce un alleato che ha subito Malocchio. Allora si diventa molto molto pericoloso. Come fare se Malocchio è pericoloso? Malocchio è un debuff come tutti gli altri. E di conseguenza se noi ci portiamo dietro un campione come Svendura Malocchio non esiste più. Ora, il Minotauro grazie al bene del resto del team è morto prima che potesse prendere turno. Ma ribadisco, in un team normale dove ci sono tutti i campioni validi ma ancora non al loro 100% potrebbe prendere 2-3 turni. Avete visto che Malocchio dura 5 turni. Quindi non è possibile liberarsene semplicemente essendo più veloci del boss. Prima o poi la legnata ce la prendiamo. E se quel campione era un po' più fragile perché era quello che faceva danni perché per 3.000 motivi insomma avrebbe potuto morire. Andando a compromettere magari tutta la run. Malocchio però è un debuff e non è scritto che non può essere rimosso. E di conseguenza Svendura pulirà. Sempre. Andando indirettamente a proteggere il team. C'è un'ultima cosa che ci tengo a dirvi prima della chiusura del video. E cioè la sinergia con Koopa Incantatrice. Koopa Incantatrice ha la possibilità di provocare tutti per 2 turni. Che è tantissimo però si mette un inammazzabile e mette a se stessa un blocco a destrezza e tempi di ricarica per 5 turni. Dice che questo debuff non può essere contrastato o bloccato e non può venire rimosso. Ma sarà davvero così? Ora vediamo un contesto normale. Quindi ci torniamo dal drago. Ho scelto questa semplicemente per avere un po' di più tempo per farvi vedere le cose. Insomma quindi vabbè. È più veloce Svendura. Ha preso turno. Chi se ne importa le facciamo fare quello che vuole. Ha preso un altro turno perché le piace l'idea. Adesso andiamo a provocare tutti quanti. Quindi andiamo a provocare tutti quanti. Lei si è messa blocco a destrezza e tempi di ricarica. Ha preso turno Svendura e blocco a destrezza e tempi di ricarica è sparito. C'è scritto nella skill che non può essere contrastato. Non può essere rimosso. Non può essere... Non importa. Può essere rimosso da Svendura. Quindi questa è una sinergia davvero molto molto valida. Perché mi dà la possibilità di sfruttare anche tutte le altre destrezze. In particolare la seconda insomma. Perché blocca a destrezza e tempi di ricarica ci obbliga ad utilizzare solo la sua skill primaria. Ma anche la sua skill è potente. Fa danno e fa cose utili. Perché mette blocco buff. Su campioni che mettono molti buff. Come per esempio Farmacista che ha la possibilità di mettere l'aumento a velocità. Tutti quanti. O Ordin per esempio che può buffarsi da solo. Fa tantissimo. Quindi avere tutte le sue destrezze a disposizione sempre è molto importante. È il motivo per cui le hanno messo questo debuff auto inflitto. Per limitare il suo enorme potenziale. Se noi la mettiamo insieme a qualcuno come Svendura. Non ci sono limiti. Quindi ecco questo è un altro valore aggiunto di Svendura. Che era interessante farvi vedere. Detto questo raga. Il video di oggi finisce qui. Spero di avervi dato qualche info utile su un campione veramente molto semplice e vecchio. Ma immortale come Svendura. È stata nella mia cantina colpevolmente per tantissimo tempo. Sebbene io all'inizio l'abbia utilizzata tantissimo. E quindi sono veramente super super contento di averla fatta. Perché fa la differenza dove la mettete. Finché non l'avete nel team non vi rendete conto di quanto faccia la differenza. E quindi costruitela. Oppure pregate di trovarla dalle schegge. Insomma se già non l'avete. Io ho visto che la maggior parte delle persone che mi chiedono consigli. Mi mandano la lista dei campioni. Svendura c'è sempre. Svendura c'è veramente sempre da qualche parte. Quindi penso che l'avrete. Ma comunque se no sapete che cosa dovete desiderare dalle schegge. Come al solito vi invito a lasciare i vostri commenti qui sotto. Lasciate un mi piace se avete gradito. Mi raccomando molto importante. Iscrivetevi al canale. Accendete la campanella. E anche a casa vostra verrà a fare le pulizie sventure. Che è molto molto brava. Lo abbiamo capito. E infine come dico sempre. Siate furiosi. Ma rimanete bradipi. iscrivetevi al canale. Medica. Anche. Se è molto brava. Molto. Grazie a tutti.